Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Intanto come state? Mi auguro bene. Allora, perché questo video? Perché io sono molto curioso di capire sempre le reazioni anche degli avversari alle loro sconfitte. La Juventus ha battuto in Lipsia? Come l'hanno preso i tifosi? Come è stata l'escalation dei commenti? Commentiamo insieme i loro commenti fatti sul forum principale dei tifosi dell'Lipsia e vediamo insieme come l'hanno presa. Nel finale risponderò a un vostro commento che mi ha particolarmente colpito e ne voglio parlare insieme a voi. Prima di iniziare mettete like al video, iscrivetevi al canale e ovviamente ragazzi commentate, commentate, commentate perché ripeto farò tanto questa roba qua di prendere il vostro commento e di commentarlo così da dare un senso maggiore al vostro impegno che mettete nello scrivere e darmi le vostre opinioni. Allora ragazzi, partiamo subito al volo col primo commento. Diciamo che c'è stato anche un commento durante la partita. Eborna scrive alle 21.46, ho la pelle d'occa, vantaggio contro la Juve. Lecito ci sta, o no? Mac Designer che già sente puzza di bruciato scrive L'inizio del secondo tempo, non mi piace per niente, siamo troppo lenti. La squadra offensiva deve lavorare in difesa, è ancora un cross incontrastato da fuori. Shit, merda. Questa è la scritta di Mac Designer. Ros ha servito, Marco Ros che a proposito è in bilico la sua posizione perché rischia di essere esonerato per via dei suoi risultati che non lasciano pienamente soddisfatta la dirigenza ma aggiungo anche che è la qualità del gioco espresso che ad oggi non convince anche perché quel tridente d'attacco che Simons, Open Da, Sesco, potrebbe fare molto molto di più. Lips Bar scrive Rosa ha servito un tè rilassante durante l'intervallo, tornano all'intervallo completamente dormienti. Aggiunge, rincarna la dose, la Juve esce dalla sosta molto più motivata dall'intervallo. Questo dovrebbe dare all'allenatore qualcosa su cui riflettere. Questa è la Champions League incredibile. Kinkerlitz scrive Si sa, il Lipsia ha sempre una buona metà e una metà meno buona. Quindi gioca una metà partita bene e una metà partita male. Vediamo se il fatto che la Juventus sia decimata per noi sia davvero un vantaggio. Incrociamo le ditta. Oh, undici. Spero che entri. Non riesco nemmeno a guardare il rigore. Chi spara, sì, Sesco. Sempre loro a esultare per il gol di Sesco che è il momentaneo un vantaggio del 2-1 per il Lipsia. E sì, e ora siamo in maggioranza. Qualcosa quindi dovrà pure succedere perché erano undici contro dieci. Questo qua scrive Quindi adesso con il vantaggio nuovo in più la partita non può più esserci tolta. Anche se quella è la Juventus. Insomma, questo non dovrebbe accadere. Dopo un po' Kim Kerditz semplicemente merda. Questo è il gol di Dusan Vlahovic, ragazzi. Alarzer scrive Se non vinciamo questa partita contro i dieci giocatori della Juve sinceramente non capirò più il mondo. Mac Designer E così perdi partite che chiaramente puoi e devi vincere. La miglior difesa della Bundesliga. Puntini, puntini, puntini. A parte il Bayern non avevamo avversari forti. Io lo chiamo a spiegare i problemi. Oggi erano tutti obiettivi facili. Che non puoi mandare giù se finalmente vuoi portare a termine qualcosa. A questo proposito, vabbè, un altro utente ha ragione nella sua critica. Non potresti essere più stupito contro una squadra decimata. Parla dell'Ipsi, ovviamente. Questo è davvero l'asilo contro i veri uomini. Sono sbalordito e curioso di vedere cosa dirà il signor Mintzlaff al riguardo. Mac Designer La gestione della palla è fondamentale. La Juve ha dimostrato di essere davvero forte. Perdiamo palla regolarmente e velocemente. Questo deve cambiare. Siamo quindi lontano dai pettegolizi selvaggi. Lips Bar Quindi otteniamo due sostituzioni per infortunio da parte della Juve. Giochiamo in casa. Un arbitro che non fischierà contro di noi. Abbiamo uno in più e perdiamo la partita. Conclusione. Non abbiamo davvero un posto in Champions League. Direi che abbiamo una carenza di competenze. E il Pirelli qua già mette in dubbio la posizione dell'allenatore di Marco Rose. Questa partita deve avere delle conseguenze. Deve esserci un fine con questo calcio di stronzate. Purtroppo bisogna mettere che l'allenatore è simbolo di questo meme kicking. Non importa quanto simpatico possa essere e quanto armoniosa sembri la struttura. Il gioco è un modello per la legittima critica di Minzlaff. Cucu scrive Oggi abbiamo avuto forse quello là in realtà il Sior Minzlaff. Ragazzi potrebbe essere qualcuno della dirigenza dell'Ipsia. Ve lo cerco subito perché Oliver Minzlaff. È un dirigente sportivo tedesco dell'Ipsia. Probabilmente Minzlaff ragazzi è il Sio. Non lo so chi cazzo sia. Qualcuno della dirigenza sarà. Fatto sta. Poco sposta e poco ci riguarda francamente di chi sia esattamente. Andiamo avanti. Cucu scrive Oggi abbiamo avuto tanta fortuna dalla nostra parte. Soprattutto un ultimo arbitro. Ottimo de che? Fatto cagare. Poi l'allenatore ha fatto entrare Enrix all'intervallo. E questo ragazzo è stato parecchio criticato da loro. E ha scombussolato tutta la stabilità difensiva del centrocampo. Dove essere un brillante trucco tattico. E poi portare Polsen più tardi è stata la giligina sulla torta. Per me il mister oggi ha chiaramente perso la partita. Altra domanda. Qual è stata l'ultima volta che abbiamo segnato un gol su punizione diretta? Ragazzi sono stati questi i loro pensieri sulla partita. Cioè non l'hanno presa bene in realtà. Sono partiti dai Sesco, grande, bravo. Dopo un po' oh cazzo non possiamo perderla così. 11 contro 10, due infortuni eccetera. Eppure la prendono in quel posto. L'escalation se la prendono con Marco Rose. E credo che la sua situazione ripeto sia molto molto in bilico. Però questa è stata la loro reazione durante l'arco della partita e nel finale di partita. Loro erano convinti di potercela fare. Nel senso sarebbero accontentati di un pari eccetera. Perché sapevano la grandezza comunque della Juve al di là di tutto. Però insomma ci speravano. La Juve ha fatto l'impresa e loro giustamente ci sono rimasti sotto. Questo è il loro pensiero. Per quanto riguarda il commento, è il commento che è sotto il video di stamattina legato a Sergio Ramos. Io vi ho detto di prima chitto vi dico no. Nonostante io apprezzi il giocatore e le qualità del giocatore. È avanti con l'età. Ci sono degli equilibri da non rompere. Però vediamo cosa succederà. Io ho massima fiducia ripeto in Giuntoli e Motta. Se Giuntoli e Motta reputano il giocatore idoneo al progetto Juve. Alzo le mani e dico va bene. Per carità. Alessandro Di Piero 88 mi scrive. Cabal non facciamo ridere per favore. Non ne ho voglia. E Danilo è alla frutta. E non è un marecatore. Servirebbe subito prendere Matip. Gran difensore. Ma non accadrà. E possiamo reputare finiti sogni di gloria per questa stagione. Ora se uno è un gran difensore. Probabilmente sarebbe già casato da qualche parte. A mio modesto parere. Detto ciò di commenti simili e sprezzanti sul livello dei nostri calciatori. Ne ho letto anche in passato. Giocatori che ad oggi invece sono rivalutati totalmente e che danno in realtà un senso buono alla loro presenza della Juventus. Che risultano anche importanti. Locatelli è uno di questi tra i più criticati. Sicuramente sono d'accordo con lui su Danilo che in questo momento non dico che sia alla frutta ma quasi. Lo vedo molto distante da quello che gli chiede Motta. E anche molto distratto posso dire in certe letture difensive. Per cui posso capire lui. Ma abbiamo Cabal. Abbiamo altre soluzioni. Probabilmente a gennaio ci sederemo con calma, voce ferme. E ragioneremo se il livello dei giocatori attuali in rosa sia sufficiente a superare la difficoltà legata all'assenza di Bremer. Altrimenti si aggira direttamente sul mercato. Ma ripeto eviterei di prendere giocatori che al calcio hanno poco da dare, che sono avanti con l'età e che hanno vinto tanto. In questo momento preferisco un giocatore che è sicuramente tecnicamente meno adottato ma ha la fame di arrivare. Ha la fame di dimostrare e deve fare quel saltello in avanti. Questa è la mia mentalità che è completamente allineata, credo, a quella di Giuntoli e Motta. Che in questo momento preferiscono giocatori simili. Giocatori che hanno fame. Che vogliono arrivare. Che hanno ambizione. Non giocatori che hanno già vinto. Giocatori che hanno... Perché la Juventus non è stata costruita con giocatori di esperienza. L'esperienza ce la stiamo costruendo noi. Come? Affrontando anche partite come quelle con Lipsia. Che danno una consapevolezza maggiore. Che aiutano i giocatori a maturare nella reazione a certi momenti anche di difficoltà. Che sono state delle difficoltà estreme con la partita con Lipsia. Sono quelle le partite allenanti e che mettono nel tuo bagaglio da calciatore tantissimo. Tantissimo. Quindi credo che cozzi un po' la strategia di prendere giocatori che hanno un passato importante. O i giocatori che hanno vinto. O i giocatori che andiamo oltre questa logica. Prendiamo un Calulu 2 piuttosto. Ragioniamo su un Calulu 2 per il gennaio. Un giocatore che magari è cagato poco ma che delle ultime prestazioni che paghi poco. Te lo migliori in casa e ti dà delle certezze. Che vuole arrivare. Che vuole spingere se stesso per arrivare a livelli più alti. Questa deve essere la mentalità. A mio parere. Poi ditemi la vostra sotto nei commenti. Io vi mando un forte abbraccio. Con questa voce de merda. Me ne accorgo. Sono con le orecchie tappate. Sto prendendo flimuccilla, manetta. Mi sto stappando le orecchie ogni tanto. Passerà. Ciao belli.